ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco armonet fizzer srl ultimo aggiornamento 30 settembre 2022 cos'è armonet confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia contro indicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere armonet durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli ecipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è armonet armonet è un farmaco a base del principio attivo gesto dene più etinile stradiolo appartenenti alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estro progestiniche è commercializzato in italia dall'azienda fizzer srl armonet può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni armonet 0,0 75 mg più 0 e 02 mg 21 compresse rivestite informazioni commerciali sulla prescrizione titolare fizzer italia srl concessionario fizzer srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo gesto dene più etinile stradiolo gruppo terapeutico contraccettivi ormonali sistemici forma farmaceutica compresse rivestite indicazioni prevenzione del concepimento la decisione di prescrivere armonet deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose e il confronto tra il rischio di te va associato armonet e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati coq vedere paragrafi 4 3 e 4 4 posologia modalità di assunzione la confezione di armonet contiene 21 compresse deve essere presa una compressa al giorno per 21 giorni consecutivi seguita da una sospensione dell'assunzione per sette giorni la prima compressa va estratta dalla casella della confezione calendario contrassegnata dal numero uno che si trova accanto alla parola inizio la compressa successiva va prelevata il giorno dopo dalla casella vicina seguendo la direzione delle frecce in tal modo è facile controllare giorno per giorno se l'assunzione della compressa è avvenuta o meno le compresse vanno ingerite senza masticare ogni giorno possibilmente sempre alla stessa ora preferibilmente dopo il pasto serale dopo aver preso tutte le 21 compresse sospendere l'assunzione per sette giorni un sanguinamento da interruzione di solito inizia due o tre giorni dopo l'ultima compressa e può non essere terminato prima che la successiva confezione venga iniziata ogni successiva confezione viene iniziata il giorno dopo l'intervallo libero da compresse questo significa che la seconda confezione di armonet verrà iniziata esattamente nello stesso giorno della settimana in cui era stata iniziata la prima confezione quattro settimane prima modalità di inizio del trattamento con armonet nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente l'assunzione delle compresse di armonet deve iniziare il primo giorno del ciclo naturale della donna cioè il primo giorno della mestruazione è possibile iniziare armonet anche tra il secondo ed il quinto giorno del ciclo ma durante il primo ciclo si raccomanda di impiegare anche un metodo contraccettivo non ormonale di barriera come profilattici e spermicidi per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse di armonet passaggio da un altro contraccettivo orale di tipo combinato la prima compressa di armonet deve essere assunta preferibilmente il giorno dopo l'ultima compressa attiva del precedente contraccettivo o al più tardi il giorno dopo il consueto intervallo libero da pillola o il giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo orale passaggio da un contraccettivo a base di solo progestinico mini pillola impianto dispositivo intrauterino preparato per iniezione è possibile cambiare in qualunque momento se si proviene dalla mini pillola e l'assunzione di armonet deve cominciare il giorno successivo nel caso di un impianto l'assunzione di armonet deve cominciare nello stesso giorno nel quale l'impianto a base di solo progestinico o il dispositivo intrauterino a base di solo progestinico viene rimosso o nel caso di un preparato iniettabile a base di solo progestinico nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione in tutti questi casi la donna deve essere avvertita di usare anche un metodo contraccettivo non ormonale per i primi sette giorni di assunzione delle compresse di armonet dopo un aborto al primo trimestre è possibile iniziare il trattamento con armonet immediatamente senza bisogno di ulteriori misure contraccettive dopo un parto un aborto al secondo trimestre poiché il periodo immediatamente successivo al parto è associato ad un aumentato rischio di tromboembolia l'assunzione di armonet non deve cominciare prima del ventunesimo ventottesimo giorno dopo il parto nelle madri che non allattano o dopo un aborto al secondo trimestre la donna deve essere avvertita di utilizzare anche un metodo contraccettivo non ormonale nei primi sette giorni di assunzione delle compresse di armonet tuttavia se nel frattempo fossero intercorsi rapporti sessuali prima di iniziare effettivamente l'assunzione di armonet si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione vedere paragrafi 44 tromboembolismo e 46 assunzione irregolare delle compresse la protezione contraccettiva può diminuire se si dimentica di assumere le compresse in particolare se la dimenticanza si verifica durante i primi giorni del ciclo di trattamento se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è inferiore alle 12 ore dall'ora abituale la protezione contraccettiva non risulta ridotta la compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si accorge della dimenticanza e le compresse successive devono essere assunte all'ora consueta se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è superiore alle 12 ore dall'ora usuale o se non sono state assunte due o più compresse la protezione contraccettiva non è più assicurata di conseguenza nella pratica quotidiana possono essere dati i seguenti suggerimenti prima settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si accorge della dimenticanza anche se questo significa assumere due compresse nello stesso giorno le compresse successive devono essere assunte l'ora consueta inoltre nei successivi sette giorni deve essere utilizzato un metodo contraccettivo non ormonale esempio preservativo se durante la settimana precedente sono intercorsi rapporti sessuali si deve prendere in considerazione la possibilità di una gravidanza maggiore è il numero di compresse dimenticate e più ravvicinato è l'intervallo libero da pillola maggiore è il rischio di una gravidanza seconda settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si accorge della dimenticanza anche se questo significa assumere due compresse in un giorno contemporaneamente le compresse successive devono essere assunte all'ora consueta non è necessario impiegare alcun metodo contraccettivo a condizione che nei sette giorni precedenti la prima compressa dimenticata le compresse siano state assunte correttamente tuttavia in caso contrario o se la compressa dimenticata è più di una si deve raccomandare l'impiego di precauzioni aggiuntive per sette giorni terza settimana considerata l'imminenza dell'intervallo libero da pillola il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore tuttavia modificando lo schema di assunzione della pillola si può ancora prevenire la riduzione della protezione contraccettiva adottando una delle due seguenti opzioni non vi è pertanto necessità di usare metodi contraccettivi aggiuntivi purché nei sette giorni precedenti la prima compressa dimenticata tutte le compresse siano state prese correttamente in caso contrario si deve raccomandare di seguire la prima delle due opzioni e di usare anche precauzioni aggiuntive nei successivi sette giorni l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si accorge della dimenticanza anche se questo significa assumere due compresse nello stesso giorno le compresse successive devono essere assunte all'ora consueta la confezione successiva deve essere iniziata subito dopo aver terminato la precedente cioè senza osservare l'intervallo libero da pillola tra le due confezioni in questo caso è improbabile che si verifichi emorragia da sospensione prima della fine della seconda confezione tuttavia durante l'assunzione delle compresse possono presentarsi spotting o emorragia intermestruale si può anche raccomandare di sospendere l'assunzione delle compresse della confezione in corso si deve quindi osservare un intervallo libero da pillola che duri fino a sette giorni compresi quelli nei quali sono state dimenticate compresse e poi proseguire con una nuova confezione qualora siano state dimenticate compresse e nel primo regolare intervallo libero da pillola non si presenti emorragia da sospensione bisogna considerare l'eventualità di una gravidanza in atto raccomandazioni in caso di vomito e barra o diarrea se entro quattro ore dall'assunzione della compressa si verificano vomito o diarrea l'assorbimento delle compresse può risultare incompleto è richiesto l'utilizzo di compresse da una nuova confezione così come sopra descritto fare riferimento alle raccomandazioni illustrate nel paragrafo assunzione irregolare delle compresse se non si vuole modificare il consueto schema posologico si deve prendere una o più compresse extra necessarie da una nuova confezione popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia dei contraccettivi orali combinati è stata stabilita nelle donne in età riproduttiva l'uso di questi farmaci prima del menarca e controindicato controindicazioni i contraccettivi ormonali combinati coc non devono essere usati nelle seguenti condizioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 presenza o rischio di tromboembolia venosa tromboembolia venosa tv in corso con assunzione di anticoavolanti o pregressa ad esempio trombosi venosa profonda tvp o embolia polmonare ip predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa come resistenza alla proteina c attivata incluso fattore v di leader carenza di antitrombina ii carenza di proteina c carenza di proteina s intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata vedere paragrafo 4 4 rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio vedere paragrafo 4 4 presenza o rischio di tromboembolia arteriosa tea tromboembolia arteriosa tromboembolia arteriosa in corso pregressa ad esempio infarto miocardico o condizioni prodromiche ad esempio angina pectoris malattia cerebrovascolare ictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche ad esempio attacco ischemico transitorio transienti schemic attack tia predisposizione ereditaria o acquisita nota la tromboembolia arteriosa come per omocistenemia e anticorpi antifosfolipidi anticorpi anticardiolipina lupus anticoavulante precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio vedere paragrafo 4 4 o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari per tensione grave di slipoproteinemia grave disturbi cardiovascolari ipertensione storia di ipertensione malattie correlate all'ipertensione o malattie renali patologia coronarica valvolopatia disturbi del ritmo che possono originare trombi patologia oftalmica di origine vascolare grave malattia epatica in atto pregressa fino a quando i valori della funzionalità epatica non sono tornati nella norma pancreatite in atto pregressa se associata a grave ipertrigliceridemia tumori epatici in atto pregressi benigni o maligni patologie maligne accertate o sospette degli organi genitali carcinoma dell'edometrio o della mammella se ormonodipendenti ittero colestatico gravidico o ittero in concomitanza di un precedente utilizzo di contraccettivi orali combinati emorragia vaginale di natura non accertata gravidanza accertata o sospetta associazione con ritonavir la presenza di uno o più fattori di rischio di trombosi venosa o arteriosa può costituire una controindicazione all'uso vedere paragrafo 44 qualora durante l'impiego del contraccettivo orale compaia per la prima volta una qualunque di queste condizioni l'assunzione del preparato deve essere immediatamente interrotta armonet è controindicato con l'uso concomitante di medicinali contenenti ombita svir barra parita previr barra ritonavir ed asabuvir o medicinali contenenti glicca previr barra pibrentasvir vedere paragrafi 4 4 e 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego avvertenze il fumo di sigarette aumenta il rischio di gravi effetti collaterali cardiovascolari associati all'utilizzo di contraccettivi orali combinati tale rischio aumenta con l'età e con il numero di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione l'interazione con altri farmaci che determina un aumento della clearance degli ormoni sessuali può portare ad emorragia intermestruale o ridurre l'efficacia del contraccettivo orale sostanze che possono diminuire le concentrazioni vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere armonet insieme ad altri farmaci come a pre pitan accord a pre pitan teta activus a tanto a tazzanavir accord a tazzanavir crca a tazzanavir milan a tazzanavir sandos aurantin soluzione uso interno carbamazepina e g carbamazepina zentiva dintoina dinto inale e fa vi renze intricitabina e tenofovir di soproxil auro bindo e fa vi renze più intricitabina più tenofovir di soproxil milan e fa vi renze intricitabina tenofovir di soproxil crca e fa vi renze intricitabina barra tenofovir di soproxil zentiva e fa vi renze milan e fa vi renze teta emend evo taz fenito in a icma gamibeta complex gardenale i ve men luminale compressa ma di red mikobutin misoline nervaxon nevi rapina milan nevi rapina teva italia oxcarbazepina tecnigen compresse rivestite rea taz capsula rifadine rifater rifina rifocin sostiva targretin tegretol telsir compresse rivestite telsir sospensione tolep viramune vosevi eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere armonetto durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere armonetto durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza il prodotto non è indicato durante la gravidanza diversamente dal detail stil bestrolo i dati clinici attuali e di risultati di numerosi studi epidemiologici consentono di considerare ridotto il rischio di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari armonet non è stato studiato in relazione agli effetti sull'abilità di guidare o di usare macchinari effetti indesiderati via un incrementato rischio di tromboembolia venosa per tutte le donne che usino un contraccettivo orale combinato per informazioni sulle differenze di rischio trombotico tra i contraccettivi orali vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio i sintomi di sovradosaggio da assunzione di un contraccettivo orale combinato in adulti e bambini includono nausea tensione mammaria confusione dolore addominale sonnolenza barra affaticamento emorragia da privazione non vi sono antidoti specifici ed un ulteriore eventuale trattamento deve essere sintomatico proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica contraccettivi orali sistemici associazioni fisse estro progestiniche codice atc g03 a 10 armonet è un contraccettivo orale combinato coc contenente etinile stradiolo e e e gestodene è stato dimostrato che i coc esercitano proprietà farmacocinettiche il gestodene in diverse formulazioni galeniche è rapidamente e completamente assorbito fino a dosaggi di 125 mugi il gestodene non è sottoposto a un significativo effetto di primo passaggio ed dati preclinici di sicurezza gli studi di tossicità animale per la valutazione del rischio nell'uomo sono stati eseguiti sia su ciascun componente del preparato l'etinile stradiolo ed il gestodene sia sulla loro associazione studi di elenco degli eccipienti lattosio idrato amido di mais povidone k 25 magnesio stiarato saccarosio povidone k 90 macro gol 6000 carbonato di calcio talco cera e farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di armoneta base di gestodene più etinile stradiolo sono brilleve compresse rivestite estinette fedra gestodiol mimari gold fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato ciao